Ciao ragazzi, allora guardate, uno dei primi motivi, forse il più importante, per i quali noi dovremo a un certo punto, se abbiamo dei cani o li vogliamo adottare, iniziare a studiare un po' di cifrofilia seriamente, è quella di smettere di farci delle inutili aspettative sui nostri animali. Cosa sono le inutili aspettative? Immaginarsi, non so, che magari gli animali perché appartengono a una certa razza si debbano comportare tutti nello stesso modo o addirittura perché dei cani che noi abbiamo, che sono figli di altri che noi già conoscevamo, debbano avere lo stesso carattere i genitori o semplicemente fra fratelli che possano poi manifestarsi con le stesse caratteristiche. Le aspettative sono poi le sorelle strette delle delusioni, perché noi ci aspettiamo determinate cose, ci crediamo così tanto, siamo così convinti che poi quando queste non si verificano, ne proviamo delle profonde delusioni, che a volte sono poi queste delusioni, le motivazioni per le quali prendiamo poi dei provvedimenti a volte esagerati. Allora, come avete visto fino a un momento fa, qui io sia Turman che Selvaggia. Se io non conoscessi un po' di cinofilia e mi fosse aspettato ad esempio che Turman, in questo cagnone, fosse stato prematuro nel manifestarsi un buon guardiano come lo sta diventando adesso, solo perché figlio di un ottimo guardiano, solo perché fratello di altri guardiani come lui, ecco che avrei subito grandi delusioni che a volte portano le persone a voler cedere il loro cane oppure a dire che non sono soddisfatti dei risultati che stanno ottenendo eccetera. Stessa cosa se io mi fossi mai messo in testa di voler far ubbidire a bacchetta selvaggia, e beh anche lì avrei raccolto solo delle delusioni. Invece studiando cinofilia sto ottimizzando molto i risultati con Turman, sta migliorando sempre di più ogni giorno come guardiano, sta raggiungendo la maturità che io voglio e sto lavorando sulle condizioni ambientali, stessa cosa, sono ormai arrivata selvaggia a fargli fare un po' tutto ciò che desidero però secondo i suoi tempi, secondo i suoi canoni, secondo ciò che lei crede che sia giusto potermi dare. Ma queste aspettative poi invece se io mi dovessi aspettare che Turman non è un coccolone e quindi un cane che gli posso mettere qualche bimbo piccolo e lui se lo alleva come fosse il padre, sbaglierei perché lui ad esempio ha queste caratteristiche. Guardate, le aspettative possono essere maturate erroneamente in tutte le sfaccettature caratteriali del cane. Ma guardate, ci sono tante persone che credono ad esempio che i cani capiscono tutto ciò che noi gli diciamo. Io sono sempre più convinto, più studio, che non solo loro non capiscono praticamente nulla di cosa noi gli diciamo, se non strettamente legato che riescono a ricondurlo i loro istinti di sopravvivenza e riproduzione e un po' alle strategie che mettono in atto sempre con l'obiettivo di riprodurre. Ma non gli interessa minimamente ciò che noi abbiamo da dirgli. Figuriamoci se un cane vuole un padrone, figuriamoci se un cane ha interesse nel vivere con gli esseri umani quando è stato creato per vivere con altri cani e riprodursi con altri cani. Figuriamoci se un cane può in qualche modo prendere parte a tutti i nostri problemi che fortunatamente per lui non ne ha nemmeno uno se non quello che a volte non riesce a esprimersi liberamente da animale. E se noi crediamo a tutto questo ecco che ci creiamo delle aspettative. E a volte queste aspettative sono proprio l'origine di guai grandi che nascono fra proprietari e cani che hanno magari un forte carattere. Iniziamo da piccoli ad opprimerli perché vogliamo impartire un'ubbidienza perché magari qualcuno che si è spacciato come esperto cinofilo e che ha sempre finora avuto a che fare con cani che ubbidivano per sottomissione magari ci ha detto che il cane dovrebbe fare tutta una serie di cose. E allora noi impostiamo un modo di crescere il cane con un certo rigore ecco che quando arriva due anni noi ce ne dobbiamo completamente separare. Oppure aspettative che quel cane così obbediente che vive e vivrà tutta la vita da sottomesso potesse poi trovare quell'autonomia, quella forza, quel coraggio, quella grinta di poterci difendere nel momento che ci dovesse servire. Quindi un conto sono i film, un conto sono le illusioni che noi ci vogliamo creare ma un conto è la zoologia, un conto è la conoscenza approfondita dell'animale che la otteniamo solo studiando e la conoscenza per gli animali ci tiene molto lontano queste inutili aspettative perché conoscendo l'animale possiamo conoscere sia tutto ciò che realmente l'animale può darci e tutti quelli che sono i suoi limiti legittimi, basta pensare che abbiamo noi come esseri umani tanti limiti e che quindi non ci potranno mai dare queste cose. Quindi uno dei primi motivi principali per metterci a studiare la cinofilia è questa, quella di ridurre le inutili aspettative che sono poi un po' questa specie di cancro mentale che noi maturiamo pian piano e che ci porta all'insoddisfazione dei nostri cani ma specialmente ad una cattiva gestione e ottenere pochi risultati. Bene, vi ringrazio anche oggi tanto per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!